Musica Seconda edizione del nostro telegiornale, ben trovati, apriamo con la cronaca e purtroppo con i funerali di Enrico Cordella, il terzo dei tre giovani che hanno perduto la vita due domeniche fa sul molo di Santa Maria la Scala a causa dell'onda anomala che travolse l'auto sulla quale erano i ragazzi che stavano ammirando il mare in tempesta. Una tragedia che ha scosso tutta Cireale e non solo Cireale, oggi giornata di lutto in città per il funerale di Enrico Cordella ad una settimana dalle esegue degli altri due purtroppo compagni di sventura. Vediamo insieme. Ad attendere il feretro in cattedrale per l'ultimo saluto ad Enrico Cordella, il 22enne disperso in mare, ritrovato da tre sub volontari, erano in tanti, non solo familiari, parenti e amici del giovane, ma anche tanta gente comune, scossa dalla tragedia di tre giovani vita spezzata nel fiore degli anni. Cattedrale e gremita, in tanti sono rimasti fuori dal Duomo. La città si è stretta attorno alla famiglia del 22enne nel giorno delle esegue dell'ultimo dei tre ragazzi trascinati in acqua dal mare in tempesta nel pomeriggio del 24 febbraio. Una disgrazia che ha profondamente scosso la comunità che per otto giorni ha tenuto tutti col fiato sospeso alla ricerca del cadavere di Enrico inghiottito dal mare e ritrovato grazie all'impegno dei tanti volontari che hanno ottenuto accesi riflettori sulla vicenda in chiesa, anche le massime istituzioni cittadine e tanta, tantissima gente comune. I funerali celebrati dal parroco della borgata marinara, Don Francesco Mazzoli, il religioso che ha spronato la marineria della frazione, va in merito di aver stimolato le coscienze dei tanti volontari che si sono alternati nelle battute dei fondali alla ricerca del giovane. Tanta commozione fuori e dentro il luogo di culto, i funerali celebrati dal cardinale Paolo Romeo, amico di vecchia data della famiglia Cordella, tra i concelebranti anche padre Francesco Mazzoli, parroco di Santa Maria la Scala. Enrico come gli altri e così si impegnava, aveva iniziato col sostegno del papà, della mamma a trovare un lavoro perché pensava di costituire una famiglia. Cosa stiamo facendo noi giovani per coltivare questo desiderio della vita? Cosa facciamo per proteggerli? Cosa facciamo per indirizzarli per la strada? Certo, poi vediamo una vita spezzata così e tutti rimaniamo attoniti, basiti, come si dice adesso. Ma quante vite spezziamo a noi? A quante persone neghiamo un avvenire, neghiamo la pienezza della vita? Ecco, questo è un appassarci una mano sulla nostra coscienza, dire facciamo bene nel giorno che il Signore ci concede. Con le seguite dell'ultimo dei tre ragazzi tragicamente scomparsi in città si chiude uno dei capitoli più dolorosi, una brutta pagina di cronaca che non avremmo mai voluto raccontare. Per la famiglia, parenti e gli amici, la consolazione di aver dato degna sepoltura al proprio caro. Per la madre Antonella, dopo tanto dolore e disperazione, il conforto di potersi recare sulla tomba di Enrico, quel figlio disperso e ritrovato. Oggi è la Pasqua di Enrico, mi sento di dire questo. Lo abbraccieremo nel corpo per l'ultima volta con i funerali, ma ogni Eucaristia ricorderà Enrico, ricorderà Lorenzo, Margherita. E' una gioia cristiana perché abbiamo avuto una grazia fatta da parte di Dio che è il ritrovamento del corpo di Enrico, così da poterlo consegnare alla sua famiglia, alla mamma, al papà e ai fratelli. E' un atto di giustizia che ho sempre espresso perché solo due, non tutte e tre. E Dio ha esaudito questa grande preghiera di tutti quanti. Voltiamo pagina. Ad oggi, reddito di cittadinanza al via. E' possibile inoltre le richieste negli uffici postali, nei CAF o su un sito internet dedicato. Calma, durante questa prima giornata si temevano lunghe code. In effetti sono state migliaia le richieste in tutta la Sicilia di reddito di cittadinanza. Ma non è stata registrata nessuna ressa né negli uffici postali né nelle sedi dei CAF. Potenzialmente sono circa 345.000 i nuclei familiari che in Sicilia potrebbero chiedere il reddito di cittadinanza, innovativo percorso di sostegno economico e di ricerca del lavoro, che proprio oggi parte con la presentazione delle domande negli sportelli degli uffici di poste italiane, nei CAF o attraverso un sito online dedicato. Oltre 80.000 richieste potrebbero pervenire da Catania e provincia, dove questa mattina, così come nel resto del paese, sono state avviate le procedure di accesso. Questo è l'ufficio postale di Vietnea, dove in maniera del tutto ordinata, nel corso della giornata, alcune decine di catanesi hanno presentato la domanda, mentre altri si sono limitati a chiedere informazioni, in quanto la materia non sembra essere stata ancora ben compresa, anche da chi ha goduto dei benefici della carta REI, ad esempio. Poste italiane si è adeguata comunque per tempo al numero di possibili richieste, aggiornando il personale, così limitando le attese giudicate fisiologiche. Un numero di accessi superiore si registrerebbe invece in provincia, soprattutto all'interno dei CAF, dove è possibile presentare le domande. Si tratta comunque di dati numerici che al momento non è semplice analizzare, in quanto le condizioni socio-economiche dei diversi territori delle varie province siciliane e all'interno di queste delle particolari zone residenziali e rurali contribuiranno di certo alla determinazione del numero di richieste. Qui siamo ad Eccicatena. L'agenda sta avvenendo, già alle prime ore c'erano delle persone che volevano fare la domanda, più che altro vogliono delle informazioni, perché l'informazione non è stata capillare, ma manco corretta in alcuni casi. Sono oltre già 15-20 le domande che abbiamo protocollato, vedremo man mano se il trend andrà in crescita. Ritenute che le domande al rei erano circa 400 quelle presentate in zona del territorio, io penso che le carte, la reddito di cittadinanza sarà qualcosina in meno. E come diceva, molte persone chiedono però prima di aderire al reddito di cittadinanza, magari perché già hanno dimestichezza con la carta al rei, non riescono probabilmente ancora a capire eventuali vantaggi con il reddito di cittadinanza. Sì, proprio perché ancora sia la figura del navigator che è una figura ancora astratta, il progetto col comune dovrebbe fare al massimo 8 ore, ancora non si sa bene che cosa dovrebbero andare a fare, in quali giorni dovrebbero fare e in come lo dovrebbero fare. Non si capisce bene questa forma di lavoro sui 100 km, 100 minuti di distanza, la prima offerta, come dovrebbe arrivare e come dovrebbe essere fatta. E se potrebbe essere fatta anche con cifre al di sotto di quelle previste del reddito di cittadinanza. Quindi ci sono alcuni buchi neri che, ripeto, capiremo successivamente. Ancora molta gente non riesce manco a individuare il reddito da autorizzare, se è il reddito 2017 quando magari si lavorava o il reddito 2018 quando poi magari la gente ha perso il lavoro e non ha più redditi. Quindi ci sono alcune incongruenze che, ripeto, sicuramente ora con le nuove modifiche miglioreranno. Però, certo, è un salto nel buio. Vedremo cosa ne uscirà da qui a giorni. Come dicevamo dunque, nessun assalto nel giorno del via alla presentazione delle domande, sebbene siano state registrate durante le prime ore della giornata alcune difficoltà nei sistemi informatici. Secondo quanto comunicato dall'Inps, le prime carte verranno erogate dal 19 aprile. Cronaca adesso erano tre le associazioni per delinquere trasnazionali specializzate in riciclaggio, furto e ricettazione di veicoli commerciali autodilusso dall'Italia con la destinazione Malta e Libia che operavano da tempo e ora scoperte smantellate con l'operazione cost to cost dalla polizia nel ragusano. Sono 40 le persone indagate dalla procura di Ragusa, mentre 30, tra veicoli commerciali autodilusso che stavano per partire verso Malta, sono state intercettate al porto di Pozzallo e quindi restituite ai proprietari che avevano sporto denuncia di furto. Il valore dei veicoli rubati ammonta a circa 2 milioni di euro. Le perquisizioni domiciliari a carico degli indagati hanno consentito di trovare anche un fucile, targhe rubate, veicoli e pezzi di ricambio di provenienza furtiva, oltre a documenti contraffatti. I componenti delle tre organizzazioni dovranno rispondere a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione falso riciclaggio internazionale di veicoli. Cronaca amministrativa stoppa agli spettacoli a Tormina nella settimana di Ferragosto alla Teatro Antico. Ridotti gli eventi nel periodo clou della stagione turistica. Soddisfatto il sindaco bolognale, la città potrà così respirare. Stoppa ai grandi concerti nella settimana che va dall'11 al 18 agosto al Teatro Antico di Tormina. La decisione ormai è presa, la struttura di notte rimarrà comunque aperta, a disposizione dei visitatori, ma nessun evento al suo interno che possa far piombare nel caos la perla dello Ionio, la decisione a margine della riunione della commissione per il calendario degli spettacoli, a cui erano presenti anche i rappresentanti degli assessorati regionali al turismo e ai beni culturali. Stamattina il sindaco di Tormina, Mario Bolognari, spiega il perché di questa scelta, che guarda alla qualità dei servizi offerti e alla sicurezza di residenti avventori. Almeno per questa fase, diciamo, 1. Poi ci sarà una fase 2 per l'esame delle eventuali domande che arriveranno successivamente, perché il bando non prevedeva una scadenza e un bando aperto. Quindi potrebbero esserci ulteriori domande. Tuttavia credo che il grosso sia ormai già deliberato. Io sono particolarmente soddisfatto perché innanzitutto c'è stata una scrematura dal punto di vista qualitativo per scegliere gli spettacoli che hanno per vari motivi un richiamo particolare e presentano una proposta culturale un po' più coerente e mirata di quella degli anni precedenti. Siamo scesi da 52 a una trentina di date e questo naturalmente è un fatto estremamente positivo, non perché abbiamo meno spettacoli, ma perché li abbiamo di migliore qualità. Soprattutto si è fatto uno stacco nel periodo del Ferragosto, nel quale sarà possibile visitare il Teatro Antico di notte con una visita anche il 10 d'Agosto per la caduta delle stelle che sarà suggestiva e che tutti gli anni gli stranieri che sono presenti in città e anche gli italiani richiedono, ma che non possono mai fare perché appunto ci sono gli spettacoli al Teatro Antico. La cosa che a me interessava era salvaguardare la città. Nel momento in cui non siamo in grado di dare tutti i servizi, in particolare i parcheggi, l'ingresso ordinato in città, è meglio non intassare ulteriormente la città, quindi questo obiettivo è stato almeno in parte raggiunto. Nella seconda metà del mese di agosto avremo solo ed esclusivamente opere liriche che, come lo scorso anno, sono pensate e hanno una promozione in particolare presso i clienti degli alberghi, quindi il teatro si riempirà, ma si riempirà di ospiti che sono già in città e che non devono venire dall'esterno per appesantire ulteriormente il flusso. Quindi il mio giudizio è molto positivo. Non posso fare anticipazioni sugli artisti, ma posso dire che, per esempio, è salvaguardato il rock, ma è un rock storico, di qualità, di altissimo prestigio internazionale. Insomma, i nomi parlano da soli. Ci sono dei cantanti italiani in esclusiva, molto conosciuti. Insomma, uno ha già esaurito una data, abbiamo dovuto aggiungere una seconda data perché ha spopolato nella prevendita. Teniamo conto del fatto che si tratta di spettacoli che vendono molto online e vendono molto all'estero, quindi questo per la città è importante. E i residenti e i commercianti concordano la scelta che è stata appunto trovata, anzi in qualche maniera anche ricercata, volutamente ricercata, dall'amministrazione comunale. È quella giusta. Plaudono commercianti e residenti di Taormina la scelta di non inserire in calendario al teatro antico eventi musicali che attirerebbero un flusso di gente enorme, quasi fuori controllo, se da una parte il periodo ferragostano già di per sé, annualmente, fa registrare presenze dai grandi numeri, un dietrofronte in tal senso penalizzerebbe certamente la comunità, così come l'immagine della città stessa. Più destagionalizzazione turistica all'auspicio per i taorminesi. No, no, meglio. Su questo sono d'accordo. Magari alcune scelte le posso anche non condividere, però questa è corretta perché proprio quei giorni sono strapieni di persone, e quindi è meglio per quel proprio determinato periodo non avere spettacoli. Quali sono le difficoltà logistiche che riscontrate, che avete riscontrato? Troppa gente, impossibilità di muoversi, neanche a piedi. Impossibile prendere la macchina, quindi proprio far venire altre persone per spettacoli e per eventi, proprio per quella settimana è meglio non farne. Poi prima, dopo, settembre, ottobre, taormine, è bellissima anche d'inverno. Marzo, ad esempio, una giornata come questa, si potrebbe fare qualsiasi cosa, e invece non c'è nessuno. Anche perché ricordiamo, voi la sera siete aperti. Sì, chiudiamo prima, non come d'estate. D'estate chiudiamo a mezzanotte, è normale, per adesso chiudiamo semplicemente alle otto. No, va benissimo, perché aumentare confusione nel periodo di ferragosto non serve. A nessuno crea altri problemi. Noi preferiremmo, se fosse possibile, qualche manifestazione di agosto, spostarla nel periodo invernale o primaverile. Quindi fare in modo che si destagionalizzi un po' di più il turismo? Esatto, esatto. Inutile concentrarlo su due mesi, tre mesi. Sarebbe bellissimo per tutti usare questo sistema, se è possibile. Cosa si registrava negli anni passati durante il ferragosto? Lei è residente a Taormina, quindi vive e lavora qui, le difficoltà del caso? Sì, i problemi si centuplicavano, perché grandissima confusione, concentrata in pochissimo tempo, quando poi il rimanente tempo dell'anno stavamo qua aspettando qualcosa da fare. E questo crea anche un disservizio alla collettività? Certo, certo, perché molta confusione e poco servizio. Giusta confusione, il servizio viene dato buono. Giusto perché Taormina è molto, molto, molto piena di turisti, quindi l'abilità si sta male, nel senso che chi viene è il turista e paga. Vuole anche servizi, vuole una certa tranquillità. Giustamente le due cose non si convergono insieme. Io le dico, per i clienti che vengono, giustamente pagano, si crea troppo caos. La cittadina è quella che è, è per un totto abitanti. E si conserverebbe anche un brutto ricordo poi, no? Dei servizi offerti. Perché se la gente magari alloggia male, c'è troppo caos, non trova il parcheggio, per strada non si può camminare. Dico, servono i concerti, però in un periodo un po' più di calma. Perché servono? Perché portano lavoro. Non dobbiamo disegnare niente. Perché guardi, in un momento di crisi tutto, anche una mollichina serve. A proposito di commercio, Siracusa è la città italiana con il centro storico più vitale, mentre l'Aquila è quella a maggiore rischio di declino commerciale. Lo si evince dal report di ConfCommercio, report decennale, che tiene conto del numero di negozi, più 24%, dal 2008 al 2018 a Siracusa, delle attività ambulanti, più 23%, e turistiche, che sono addirittura raddoppiate nella città Aretusea, più 98% in 10 anni. Catania si attesta nella media con un declino dell'apertura di negozi. Erano 801 dieci anni fa al centro storico, sono 693 adesso. Erano 3689 fuori dal centro storico, sono 3168 adesso. A proposito di turismo, a proposito di città, parliamo di Catania, dove in questi giorni si stanno girando alcune scene del film Tutto a Posto. Anche Palazzo degli Elefanti diventa set cinematografico. Tutto a Posto si chiama così il primo film dell'attore palermitano Roberto Lipari, che si sta girando in questi giorni a Catania, e successivamente anche ad Acireale, protagonisti Luca Zingaretti e lo stesso Lipari, autore del soggetto. Il film sarà nelle sale cinematografiche in autunno e racconta la storia di uno studente universitario, i cui docenti vendono gli esami. Il film è stato ufficialmente presentato nel corso di una conferenza stampa nel municipio di Catania. Luca Zingaretti interpreta il ruolo del rettore dell'Ateneo. Ma io non voglio far dimenticare molto Albano, sono un attore, interpreto ruoli di volta in volta diversi, ci mancherebbe che volessi far dimenticare Montalbano. Ma è una domanda da mille punti, diciamo che è proprio un personaggio non edificante, anche se poi alla fine ci sarà un riscatto finale che in qualche modo lo monderà da ogni peccato, secondo anche un'abile scrittura drammaturgica, per cui ci sarà un ribaltamento dei ruoli. Trovo che sia una gran bella scrittura, sia una commedia garbata e spero che chi lo vedrà si divertirà come ci siamo divertiti, come ci stiamo divertendo noi a farla. Quando un qualcosa, una commedia, un film, è scritto bene diventa tutto sempre molto divertente, perché è come scivolare su un bel manto nevoso, ma con dei bei sci e vai giù che è una meraviglia. Sicuramente a me piaceva giocare sul confronto generazionale e siccome spesso in Italia ho una fortuna di fare un film da giovane, io ho 28 anni e a un certo punto diventerò vecchio. E quindi secondo me quando fai un film, diciamo un grande, che fai la fotografia, è un film dei tuoi errori, ma anche la fotografia del tempo. Ci sono dei film che possono essere, cioè ricomincio da tre, doveva essere il primo film di Troisi, l'ultimo doveva essere il postino. Quindi sono delle cose che devono avere il loro tempo. E questo è il, non sto facendo assolutamente nessun paragone, magari un signore, no, però sto facendo, e quello che voglio dire è che la fotografia del mio pensiero attuale è di un pensiero di... io ci credo. E so che qua, visto sempre tutti quelli più grandi di me, che più si cresce con l'età, meno comincia a credere che le cose possono cambiare. Forse perché si collezionano esperienze negative. È un film comico, quindi aderentissimo e lontanissimo, perché quello che accade è un film che ha una base di drammaturgia comica e grottesca e magari sembra lontano dalla realtà, però è vicinissimo. Il film è ambientato in dei luoghi anche interni ed esterni che raccontano una città ideale della Sicilia, cosa che secondo me Catania è a pieno titolo. Qual è l'elemento caratterizzante per il quale ti senti di consigliare la visione di questo film? Quando lo vedrò te lo dirò. Gli attori quando fanno un film non si possono rendere conto di come sarà il film. Sulla carta è un ottimo lavoro e quindi c'è una bella sceneggiatura, c'è un bravo regista, è molto difficile da una bella sceneggiatura non fare un bel film. Voltiamo pagina, il terremoto di magnitudo 4.9 del 26 dicembre 2018 sul fianco orientale dell'Etna nella zona compresa principalmente tra Zafferana, Cireale e Santa Venerina con ipocentro di una profondità inferiore ad un chilometro è stato l'evento di maggiore energia registrato negli ultimi 70 anni sul vulcano attivo più alto d'Europa. La superficialità dell'evento ha causato la rottura della faglia di Fiandaca per circa 8 chilometri da Acigatena sino a Monte Ilice anche con la mobilitazione di alcune strutture minore adiacenti. è quanto emerge dagli esami seguiti dal gruppo operativo di emergenza Emergeo istituito dal INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Sono stati raccolti e catalogati quasi 900 punti di osservazione lungo la faglia per ciascuno punto. Oltre alla documentazione sono state misurate le caratteristiche geometriche e cinematiche della rottura. Sono state anche effettuate riprese aeree che serviranno per lo studio del suolo. Torniamo a Catania ma per un'altra notizia l'AMT a breve trasferirà entro l'anno in verità trasferirà gli uffici direzionali da Via Sant'Euprio a Pantano d'Arci. Vediamo. Per l'affitto dell'immobile in cui sono ubicati gli uffici di presidenza e dirigenziali dell'azienda metropolitana Trasporti l'AMT di Catania paga anno dopo anno 180.000 euro. A fine di dismettere il fitto passivo l'AMT Catania ha approvato i lavori per il trasferimento degli uffici amministrativi a Pantano d'Arci. La delibera è stata siglata dal Consiglio di Amministrazione e prevede l'indizione delle procedure di gara per la realizzazione dei lavori da eseguirsi presso la rimessa 8 di Pantano d'Arci che consentiranno il trasferimento degli uffici amministrativi dall'attuale sede di Via Sant'Euprio entro l'anno. Abbiamo voluto subito col Consiglio di Amministrazione affrontare questo problema che ormai si protraeva da tanti anni ci sono le risorse disponibili che sono dei fondi ministeriali e quindi abbiamo inteso avviare subito le procedure per la gara e per i lavori di adeguamento degli uffici che sono di proprietà che sono nell'ambito di un complesso dove ci sono i magazzini dove ci sono le officine dove ci sono tutti gli uffici del settore movimento e quindi anche gli uffici amministrativi saranno lì e potrà finalmente aversi un'azienda con un centro operativo e produttivo unificato dove quindi miglioreremo i processi produttivi e decisionali e alla fine forniremo un miglior servizio al cittadino Gli interventi saranno effettuati con fondi ministeriali del programma aggiuntivo Catania Sud e del relativo accordo stipulato nel 2011 tra il Ministero dello Sviluppo Economico il Comune di Catania e la MT Investi Catania fondi destinati e già disponibili presso Investi a Catania Si accorce la filiera si darà un intervento più efficiente e più diretto rispetto a tutti i reparti dell'azienda e poi fatto non secondario in questo tempo di crisi del socio comune e di necessità di razionalizzare i costi dell'azienda si risparmiranno circa 200 mila euro l'anno di affitto che oggi purtroppo l'azienda non può più permettersi Per il cittadino utente tra l'altro il numero sempre maggiore non cambia niente? Non cambia niente noi abbiamo un'altra sede di proprietà aziendale che è in via perbiscito quindi è centralissima e lì abbiamo in animo di mantenere sia l'ufficio abbonamenti che un ufficio relazioni col pubblico quindi il cittadino catanese non dovrà recarsi ovviamente alla zona industriale ma potrà avere tutte le informazioni gli abbonamenti i biglietti e quant'altro in una sede di proprietà dell'azienda e comunque altrettanto centrale quindi da un lato razionalizziamo i costi e eliminiamo i fitti passivi dall'altro non creiamo di servizio al cittadino quanto adottato dal consiglio di amministrazione ha anche una lettura più ampia così come viene spiegato in uno comunicato stampa della stessa MT dove si rileva che il rigoroso percorso di risenamento e razionalizzazione consentirà anche di mettere in sicurezza i conti e quindi il futuro dei lavoratori della stessa azienda che anche nel recente passato ha conosciuto momenti di astensione dal lavoro di impegno sindacale visto le nubi che si sono addensate sullo comune che non possono non avere riflessi anche sulla partecipata più grande dell'amministrazione cittadina Il piano della regione per le strade provinciali opera al via entro il 2019 i primi cantieri prima dell'estate sono previsti circa mille posti di lavoro 102 milioni stanziati per una viabilità sicura in Sicilia e il piano del governo regionale per salvare le strade provinciali che da tempo soffrono della mancata attenzione legata alla fase di stallo e di crisi delle ex province 70 intervetti finanziati con il patto per il sud e mediante l'integrazione all'accordo di programma quadro sul trasporto stradale firmato nel 2017 tutte le province siciliane sono interessate dal programma di manutenzione oltre 15 milioni di euro saranno spesi nella città metropolitana di Catania nel dettaglio quasi 5 milioni per la strada di bonifica Bronte-Stuara Santa Venera 3,9 milioni per la manutenzione straordinaria della provinciale 131 il progetto per l'adeguamento del ponte sul fiume Gornalunga per l'importo di 3,4 milioni e la manutenzione straordinaria della strada provinciale 37 per 2,3 milioni interventi di minore entità riguarderanno la messa in sicurezza delle provinciali della zona nord del capoluogo e di lavori per sistemare i tratti delle provinciali 25 e 28 per un milione di euro complessivo danneggiati dalle alluvioni dello scorso ottobre infine 700 mila euro per adeguare il cavalcavia della strada provinciale 25 a presentare il piano straordinario di manutenzione è l'assessore alle infrastrutture Marco Falcone il presidente Musumeci ha voluto o più volte ha detto più volte che bisogna aggredire una situazione diventata veramente eccessivamente indifendibile cioè la posizione delle province che non riescono a salvaguardare la tenuta delle nostre strade provinciali scorrendo l'elenco solo in 22 casi esiste una progettazione adatta ad appaltare l'opera ma l'assessore ha spiegato come la regione intende farsi carico della sfida gli enti che beneficeranno del finanziamento dovrebbero essere i liberi consorsi e le città metropolitane ma come dimostra lo stato della progettazione sono indietro con la tabella di marcia alcuni enti ha spiegato Falcone sono inadempienti non per negligenza ma perché hanno difficoltà a realizzare gli interventi per le carenze finanziarie e professionali degli uffici tecnici per queste ragioni è stato creato l'ufficio speciale per la progettazione abbiamo fatto una convenzione con tutte e nove le province con alcune in maniera molto più pressante con altre in maniera diciamo così molto più collaborativa per poterci noi sostituire negli interventi non soltanto nella progettazione ma anche nei bandi di gara ma e quindi nell'esecuzione delle stesse opere un pacchetto di interventi che prevede 11 cantieri in provincia di Palermo con uno stanziamento di 17 milioni 8 progetti sia nel catanese che nell'ennese 9 nel messinese nel trapanese 4 nell'agrigentino 10 nel nisseno 6 nel ragusano e 5 in provincia di Siracusa notevole il ritorno occupazionale secondo Falcone che parla di un migliaio di posti di lavoro le opere saranno realizzate entro il 2019 le prime potranno partire prima dell'estate vogliamo dire che entro 5 mesi partiranno tutti i bandi di gara ma i primi 20 interventi partiranno prima dell'estate è vero siamo in quaresima ma non possiamo non ritornare sul carnevale di Cireale che si è chiuso ieri plauso per i cari allegorico grotteschi veranima della manifestazione acese come da calendario il martedì grasso chiude i festeggiamenti dell'evento più pazzo dell'anno l'edizione del 2019 del carnevale di Cireale si è conclusa in tarda serata in piazza Duomo con la prevenzione dei vari concorsi attesissimo quello dei carri allegorico grotteschi per una volta tutti d'accordo sul cantiere vincitore della manifestazione dal titolo pensavo fosse amore e invece di principato e cavallare l'imponente maestoso e coloratissimo carro ha sbaragliato la concorrenza diretta degli altri partecipanti che hanno portato in parada creazioni altrettanto maestose e ben modellate nelle immagini realizzate dalla programmista regista Manuela Musumeci tutte le esibizioni dei cantieri al polio il secondo posto se l'ha giudicato Ardizzone con 40 anni e non sentirli terza piazza SOS Amazzonia di Mario Principato i maestri della cartapesta di Eceleale oggi rappresentano l'eccellenza nazionale tra i carnevali d'Italia un patrimonio da tutelare e valorizzare lunghi festeggiamenti tra i promotori del carro vincitore finalmente siamo riusciti dopo 8 anni a vincere questo grande adesso primo premio ringraziamo a tutti quanti ringrazio la squadra noi siamo un gruppo di giovani e abbiamo cercato di dare il massimo per avere questa vittoria festa anche per il secondo e il terzo classificato ma è la vittoria di tutta la città presa d'assalto da migliaia di visitatori per la prima edizione a pagamento per i non residenti con incassi incoraggianti anche grazie agli artisti intervenuti sul parco prima della premiazione il pubblico ha apprezzato Gerry Calà mattatore dello show conclusivo del carnevale dal titolo Una vita dall'Ibidine questo è il motto è il motto un po' della mia vita a cui anche si sono ispirati tanti ragazzotti che magari non erano bellissimi non erano col fisico statuario però essendo simpatici facendo sorridere magari una ragazza riuscivano a conquistarla lo stesso prossima parentesi festa Iola dal 27 al 1 maggio con la festa dei fiori e il concorso dei cari infiorati peculiarità tutta accese appendice del carnevale invernale E allora termina qui la seconda edizione del nostro telegiornale non ci sono infatti aggiornamenti dalla redazione ci salutiamo grazie per essere stati in nostra compagnia per avere visto il telegiornale di Reitv sul canale 89 del digitale terrestre in Sicilia per averlo seguito sul nostro sito internet www.reitv.it oppure sui nostri canali social Facebook e Youtube prossimo appuntamento con l'informazione sulla nostra emittente è fissato per le ore 14 di domani ci lasciamo con il meteo le previsioni in meteo in Sicilia per la giornata di giovedì 7 marzo prevalentemente soleggiato su tutta l'isola mari calmi venti moderati le temperature oscilleranno da 22 a 4 gradi a Catania 22 gradi la massima 10 la minima dell'isola qui Grazie a tutti.